Cazzo, allora abbiamo mangiato, abbiamo bevuto e adesso bisogna andare a scopare. Bisogna andare a scopare. Ma te cosa hai comprato ora? Il vibratore. Ah si? Tre giorni alla settimana. Di che giorno? A giovedì, a stavosi la domenica alle ore, allora, la mattina di giovedì alle nove. Il vibratore... Se puoi scaricare la batteria sono cazzi amari. Ah si? E come fai? E come fai? Niente, mi fermo e vado contro me. Mi fermo il mio motore perchè stavo facendo quello che mi arriva e decidi di farmi pagare la pila. Me l'ha messa gratis. Ma porco Dio, il vibratore del cazzo. Cosa devo fare? Cosa devo fare? E' meglio il mio motore che l'uomo. L'uomo non ti tira più, è tutta la pelle, è tutto il mosco. Ah si? E' tutto l'ultimo. Ci sono troppi trumoni uomini adesso. Ale? Salutale! Basta! Basta! Beris N «Baba» Sì Oh Olio! Prunio! Olio! E ciò li pruni! Olio! E ciò li pruni! Olio! Babba, 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 aggari bari! Adda! Aggari bari! Adda! Aggari bari! Adda! Aggari bari! Ce lo mandi tutto! Vabbè, basta! Sconvolto! C'è Giorgio sconvolto! Non vale che farò un riconosso! No! Me lo mandi!